Buongiorno, benvenuti a questa è la segna stampa, oggi del 17 aprile, vediamo subito quali sono oggi, sono un po' con la barba non fatta ma più tardi me la farò. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata, intanto c'è l'idea di riaprire alcuni settori anche prima del 4 maggio, secondo il Corriere della Sera che fino a ieri era quello che faceva il terrorismo, perché il Corriere della Sera di ieri era il capo stipide del giornale unico del virus, accusano adesso di essere stata la Lombardia a essere il capo stipide del giornale unico del virus, in realtà la Lombardia a dispetto dei suoi sindaci diceva prima degli altri di voler chiudere, sapete come la penso io su questa vicenda del lockdown, ma comunque non è questo il punto, il punto è che oggi abbiamo scoperto dal Corriere della Sera che c'è una possibilità di via libera per moda e auto, grazie al cielo, che sono due delle industrie più importanti meccanica e moda, abbiamo visto a Quarta Repubblica ospite Nicoletta Spagnoli che ci ha spiegato almeno fateci fare i campionari in maniera tale che noi si possa stare sul mercato, perché è come latte fresco alla moda, se non mi fate fare il campionario oggi, cioè se non mi fate togliere il latte alle mucche oggi, non è che poi lo recupero domani la stagione, è morta, sepolta, questa cosa evidente l'ha iniziata a capire secondo me soltanto Patuanelli, il ministro dello sviluppo economico, che di fatti dice che alcune aziende potranno aprire il 22 e io sono ben contento di questo, secondo tutti i giornalici sarebbero però dei dubbi fortissimi da parte dei sindacati e del Partito Democratico, perfettamente in linea con questa logica anti-industriale di una parte dell'Italia che pensa che i soldi nascano dall'Europa, dal fisco, dai cattivi, dai ricchi che devono piangere. Il Nord non aspetta, è il secondo elemento che tutti quanti i giornali mettono in evidenza, in realtà il Nord è molto relativo come concetto perché anche la Sicilia vorrebbe subito ripartire insieme ad altre regioni del Nord che sono Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto che poi sono metà del PIL italiano. L'ipertenza fuori fase e invece quell'altra anima oltre a quelle del PD è quella dei sindacati, cioè quella cattolica, direi cattocomunista per essere usare vecchi termini che però ci fanno capire bene il senso perché adesso è poco chic definire così l'avvenire, ma questo è il manifesto del nuovo secolo, insomma manifesto, adesso non esageriamo, il manifesto quotidiano, non il manifesto di Marx del 1848, l'avvenire dice ripartenza fuori fase, frena la maggioranza e gli esperti che sono diventato questo nuovo comitato di salute pubblica che decidono loro la politica di un paese. Tra l'altro è molto divertente perché il taglio dell'avvenire quando si parla di cose loro, cioè delle messe, già io trovo incredibile che siano state chiuse le parrocchie e le messe, lo trovo assurdo, ma comunque loro, ricordandosi che comunque sono anche il giornale dei vescovi italiani, dicono beh insomma c'è una trattativa per la riapertura delle parrocchie. Io sono felicissimo e pensavo che non dovesse essere chiuse neanche prima, però francamente se c'è una ripartenza fuori fase per l'industria che è quella che ci dà i soldini, forse anche per le parrocchie, uno potrebbe pensare che sia fuori fase la riapertura oggi, cosa che io non credo, sia chiaro, non devono chiuderle oggi, le devono riaprire immediatamente. Nel frattempo Imarisio sulla Corriere della Sera, pur tenendo nelle ultime righe una critica sulla gestione degli errori della Lombardia, beh in fondo il Corriere della Sera dopo quell'imbarazzante sfogliata di pagine che vi ho fatto vedere ieri, beh insomma un po' si accorge che il Corriere della Sera in fondo è comprato poche copie, ma ancora da Lombardi, milanesi, che proprio tutta questa ostilità nei confronti del governatore Fentana non ce l'hanno. Beh insomma il Corriere della Sera con Marco Imarisio ci spiega che c'è un'insofferenza verso la regione simbolo dell'Italia, quindi si addita la regione simbolo d'Italia anche perché in quella maniera si amplificano delle piccole invidie, delle rivalità, tra l'altro mi spiace perché nessuno si è ricordato come il sindaco Sala fece una battaglia contro quell'idea che nacque nel messaggero, ma non solo dal messaggero, da questi fenomeni degli economisti meridionalisti, calcolate che io vengo dal sud, che dicono che Milano deve restituire quello che ha ottenuto, sostanzialmente restituiscono miliardi di quello che ha ottenuto, sono il motore di questo paese ma c'era questa idea della restituzione di Milano, ve la ricordate soltanto qualche mese fa? Oggi Sala ha cambiato completamente idea ma poi ne parleremo tra poco, Feltri sul Libero che già nei giorni scorsi a differenza del Corriere della Sera aveva capito che questa contro la Lombardia è un impasto che nasce, come è scritto lui, dalla invidia, come dice Imarisio, nelle confronti della Lombardia ma anche un impasto politico che se la vuole prendere con la Lega e vogliono, spiega Feltri, soltanto fare una battaglia politica, la cosa straordinaria dei giornali che fanno l'opposizione all'opposizione e che il governo fa una battaglia all'opposizione non colpendo più Salvini che peraltro si tasce in questo momento perché la sua grande battaglia era quella dell'immigrazione che mi sembra sì ci sono dei problemi ma che è un problema risolto perché oggi l'unico problema è il Covid e sostanzialmente quindi Conte e i giornali che lo supportano contestano contro, contestano il coso, ma qua c'è sempre un coglione che deve dire i tuoi padroni, vabbè niente non mi fate perdere la linea, ecco l'altra cosa è finalmente arrivata l'applicazione, si chiama Immuni, non è male il nome, funziona bluetooth e teoricamente dovrebbe far vedere se si è in contatto con persone che hanno il virus da quello che ho capito da tutti quanti i giornali che ne parlano questa applicazione ha successo quanto più persone se la scarichano ma è anche vero che la gente come dice Franco Becchis che è l'unico giornale italiano che invita non scaricarsi l'applicazione perché alcuni dice scaricata sostanzialmente io devo dire che sono abbastanza d'accordo con Becchis e ve lo dico subito perché se mai mi avessero detto io ti do l'applicazione per non fare il lockdown cioè ti violo la tua privacy ma tu puoi uscire di casa beh insomma tra la libertà di circolazione di spostamento ed è uscire dagli arresti domiciliari per avere l'applicazione beh io l'avrei fatto ma qua mi sembra di capire che questa applicazione arriverà quando già praticamente il lockdown è finito e allora no eh prima gli arresti domiciliari e poi dopo mi controllate tutti quanti i miei spostamenti no bueno tra l'altro è molto simpatico il pezzo di Becchis perché come sempre andando a leggere tutte le carte scopre sul tempo oggi Becchis e lo scrive nella prima pagina il titolo di prima pagina che sapete un po' voi chi è che ha sviluppato questa applicazione a proposito di eterogenesi dei fini luigi berlusconi figlio del cavaliere berlusconi che ha investito in questa start up perché lui investe in start up e quindi conte per salvare dall'immunità dal covid l'italia si rivolge a una società di berlusconi adesso la fa semplice e Becchis è un po' più complicata ma la dice lui stesso e quindi è divertente questa cosa dell'alleanza berlusconi state attenti perché poi c'è sempre complottista chissà quanti soldi ha fatto berlusconi lo stesso Becchis dice che lo sviluppo e l'applicazione verrà data al governo gratuitamente prima vertice delle nomine e ci ricorda il fatto perché in realtà l'unica nomina qua che è saltata è quella di Sala Sala ha fatto fuori insieme al sindaco di Brescia l'amministratore delegato di A2A che aveva triplicato utili e fatturato e capitalizzazione di borsa qualcuno si lamenta su Brescia perché dice Brescia non c'è più la vecchia A2A di Brescia io me la ricordo ASM mi sembra che si chiamasse io avendo vissuto Brescia devo dire che loro erano molto avanti per esempio sul teleriscaldamento però il punto fondamentale è che questi sostituiscono e fanno lo spoil system senza che nessuno se ne accorga la stessa cosa pare che stia avvivendo a Roma per gli altri grandi gruppi italiani fantastico a proposito di nomine Mimmo Parisi ve lo ricordate quello che veniva dall'università di Mississippi oggi sono 20 righe sui giornali mi sembra sul Corriere della Sera perché ieri è stato interrogato era in Mississippi dalla commissione alla camera per il suo comportamento in Italia e lui dicono non sono scappato sto in Mississippi non me ne sono andato via dall'Ampal hanno semplicemente rimandato il piano non è vero che ho speso 70.000 euro per viaggi ne ho spesi 40.000 e le ho fatte in business peraltro 40.000 di viaggi non so in quanti mesi abbia lavorato questo Mimmo Parisi non è che proprio sono un euro perché un viaggio 4.000 5.000 anche in business ma va benissimo perché secondo me un dirigente può viaggiare in business a spese nostre però sentirmi dire io devo viaggiare in business perché c'ho mal di schiena io c'ho mal di schiena toc toc Parisi ma sai che ti ha nominato là là ti ha nominato il movimento del vaffanculo il movimento di Beppe Grillo di quello che voleva aprire il Parlamento con una scatoletta e dopo 10 mesi scopro che il rappresentante del reddito di cittadinanza 10 righe va in business perché c'ha mal di schiena ma ragazzi ma qua è veramente cambiato il mondo questa cosa me la potevo sentir dire e non l'avrebbe mai detta un vecchio democristiano che avrebbe viaggiato in economy non te e vi ricordate quelle fotorelle di di maio che andava in cina facendo vedere il il suo biglietto in 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 economy adesso ovviamente viaggiano tutti con gli aerei di stato ma ve lo ricordate fico che scendeva dal quirinale a piedi o quell'altro che se n'è andato in autobus alla camera ma ragazzi ma come ci siamo fatti prendere per il culo da questa generazione di geni geni della dissimulazione per dirci adesso troviamo mimmo parisi e c'ho mal di schiena ho speso 40 mila euro in business ma va benissimo andare in business ma almeno non prendeteci per i fondelli comunque andiamo avanti le altre questioni l'altra grandissima presa insomma scusatemi su milano fatemi dire una cosa che sala ieri fa una conferenza stampa dicendo il suo tiktok o quello che era no scusate mi sono fissato con i balletti di tiktok non è tiktok se fa una suo facebook in cui dice no non va bene la regione lombardia non deve aprire non deve aprire poi passano 4 5 ore forse si accorge che è rimasto solo a pensare che non si debba riaprire e dice massima collaborazione devo dire che questo sala e devo dire che insomma non gli ha fatto bene questa emergenza e sulle 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 questioni concrete invece veramente vi voglio dire su questa vicenda dell'rsa soltanto repubblica continua perché la strage dell'rsa è vero moltissimi morti nell'rsa bisogna intanto paragonare i morti dell'rsa di quest'anno con quelli degli anni precedenti perché purtroppo nell'rsa non ci vanno persone che stanno proprio bene che sono proprio giovani ci vanno persone peraltro che vengono purtroppo parcheggiate lì dalle famiglie anche per il disagio che hanno le famiglie nel gestire persone più o meno malate chiaro vogliamo dire le cose come stanno se no facciamo finta che l'rsa in italia siano sempre state in lombardia ce ne sono 155 pensate voi che l'rsa della sicilia della calabria della puglia della campania siano degli specie di fantastici come si posso dire alberghi a 5 stelle e che lì abbia funzionato tutto bene no lo dice anche repubblica oggi perché ci spiega che in italia sarebbero state 2500 persone le morte in tutta italia dell'rsa soltanto che repubblica e il fatto insistono soltanto su due rsa solo quelle di milano solo quelle che possono fottere non si figuratevi sala e fontana e gallera perché lì ci sono le ispezioni ma se facessero le ispezioni ieri le ha fatte in ass le ispezioni ha chiuso 25 rsa ha chiuso forse quelle lombarde no ha chiuso in tutta italia tra l'altro vi faccio vi leggo l'articolo con il quale la repubblica dice che ci sono queste 2500 morti alla fine però deve mantenere il punto repubblica e sentite la logica e nelle rsa di milano sarebbero morte 259 persone e che sono è il posto dove ci sono più rsa al mondo oltre che friulio di verezza giuria mi sembra come concentrazione e però oltre a queste 295 ci sarebbero 763 per polmoniti e crisi respiratorie e quindi repubblica dice se ce ne sono 259 per comovid 763 per polmoniti e crisi respiratorie sono tutte covid cioè mille e poi dice e proiettando questo su scala regionale sono 3.000 quindi è presto fatto in regione ci sono 3.000 morti di cui c'è una proiezione e l'aggiunta a quelle di covid di polmoniti e crisi respiratorie perché alle persone normalmente crisi respiratorie e polmoniti non vengono negli anni scorsi non moriva nessuno di polmoniti e crisi respiratorie soprattutto nell'rsa quindi fontana va in galera e gallera va in galera perché avete ucciso dei vecchi indifesi nell'rsa ma ragazzi ma ci rendiamo conto ma ci rendiamo conto questo vuol dire che l'rsa sono gestite bene no questo vuol dire che molti sono stati maltrattati sì ma questo non vuol dire che sono due rsa in tutta italia in questa condizione che sono guarda caso quelle di milano sotto fontana perché come dice liana anche in liguria c'è un casino oggi bastava leggere delle amigis sul giornale che ci racconta che in tutto il mondo il problema sono le rsa per il semplice motivo che dove ci sono gli anziani il virus quando entra fa più danni che nelle scuole elementari dove i bambini non si ammalano e peraltro che le hanno chiuse perché si possono portare a casa le rsa non mi sembra che tu ti puoi portare purtroppo quegli anziani a casa detto questo e l'altra questione fantastica è questo decreto di aprile siamo ad aprile che dovrebbe portare maggiore liquidità secondo il sole 24 ore 70 miliardi liquidità potrebbe arrivare il fondo perduto per le piccolissime imprese come fa in tutto il mondo e ci potrebbe essere dice il sole 24 ore un credito fiscale per tre notti se si spendono in alberghi in italia in strutture ricettive in italia però c'è un altro tema che qua non si affronta in maniera sufficiente lo fa mf in prima pagina ma l'aveva detta bene anche il sole 24 ore pochi giorni fa e sapete cos'è che questo decreto liquidità i 400 miliardi di conte sono una balla sono una gigantesca balla e non lo dico io è un'altra enorme balla sapete perché perché funziona così i 400 miliardi sono i prestiti che potrebbero avere gli italiani prendiamo quelli dei 25 mila euro cioè gli italiani possono prendere se sono piccole imprese o professionisti 25 mila euro prima cosa è il 25 per cento il loro fatturato ma va bene va bene anche questo ci può stare però per avere i 25 mila euro devi andare in banca non devi avere nessun problema di bilancio perché oggi lo schiede lo dice bene mf lo scoglio che argina il mare non sarà uno scoglio ad arginare il mare quella vecchia canzone che tutti conoscete loro utilizzano quella citazione perché lo scoglio c'è vietati i prestiti alle imprese con piccoli problemi di bilancio quindi le imprese con piccoli problemi via e quale impresa non c'ha un piccolo ho avuto un piccolo problema di bilancio ma anche se avessero messo le aziende tutte a richiederle funziona così voi dovete pensare che cosa hanno messo hanno dato al fondo di garanzia 1,7 miliardi e il fondo di garanzia ha detto ma facciamo che ne siano dati 2 miliardi ogni 2 miliardi di patrimonio cioè io ho 2 miliardi sono il fondo di garanzia posso garantire prestiti per tre volte tanto per 6 miliardi quindi è chiaro voi date lo stato da 2 miliardi al fondo di garanzia il fondo di garanzia garantisce le banche e quindi le banche erogano il prestito ma qual è il limite della garanzia che dà questo fondo di garanzia 6 miliardi beh insomma quindi questo vuol dire che se tutti chiedessero 20 mila euro sarebbero 300 mila persone al massimo che possono ottenere 6 miliardi i 400 miliardi sono una fake news toc toc io vorrei che il fondo sulle la task force sulle fake news si occupasse di questa vicenda e cioè dicesse agli italiani che i 400 miliardi che ha detto in prima serata il loro presidente del consiglio è una minchiata non ci sono 400 miliardi è una bugia è una falsità continuiamo pensare che io dico può anche andare bene così ma perché ci raccontate le balle e ci abbiamo facciamo i fenomeni no c'è il fondo il la task force sulle fake news la più grande fake news sono questi 400 miliardi o 200 miliardi o 100 miliardi sono 6 per quelle che ci hanno fino a 25 mila euro 6 massimo 200 mila barra 300 mila persone a seconda di quanto vanno a chiedere però questo non si può dire perché non c'è perché forse forse burioni dice che questa non è tra l'altro mi è divertente abbiamo arrivato un meme stupendo perché hanno aperto le librerie si vede tutte quante le librerie che ci hanno in vetrina i libri di burioni dicono ecco perché hanno deciso di aprire le cartolerie e soprattutto le librerie così burioni può occuparsi della sua diciamo promotion anche perché lui non prende nulla da quel libro lo farà la fondazione probabilmente non prende nulla neanche della sua consulenza all'fca probabilmente lo fa la sua fondazione insomma non prende mai nulla burioni anche perché probabilmente più più sta da fazio che da che in ospedale ma non è questo il punto di burioni il punto vero è quello che scrive zurlo intervistando un gius lavorista pozzoli perché questo sarà il prossimo disastro per le imprese italiane non uccidete le imprese con i processi sulla sicurezza perché tanto ci saranno i processi sulla sicurezza e l'idea di far assumere vigilanti della sicurezza in azienda noi siamo tempestati dai responsabili della privacy dei responsabili della sicurezza dai responsabili del piano dagli istintori dagli ascensori dalle certificazioni dai modelli dai certificati un po io già me lo immagino la nuova dittatura burionesca per cui avremo ancora come vi posso dire il certificatore che in azienda siamo free covid è sicuro norme a tutela della sottolute dice pozzoli intervistato da zurlo sono già gravose immaginatevi voi come dovranno vivere le aziende nel prossimo futuro poi c'è un'altra cosa straordinaria noi guariti dal virus io quando mi affaccio alla finestra mi manca l'aria io ho grande rispetto per tutte le persone che sono guarite dal virus e che hanno sofferto tanto sul virus ma ne ho di più per quelle che sono morte purtroppo questi guariti del virus che piagnucolano ragazzi non esageriamo non siamo stati in trincea noi guariti dal virus non è successo noi non siamo morti dite che siete fortunati e non fate posso dire la verità sti piagnina non siete guariti da niente se eravate voglio dire io capisco i 5 6 10 mila intubati italiani ma ragazzi il virus per quelli che l'hanno preso come me è inutile fare noi guariti dal virus noi guariti dal virus come se fossimo stati in trincea a sparare contro i cattivi ho paura i sensi di pane ma c'è anche prima c'è qualche problema anche prima se tu pensi che una volta adesso ti è cambiata la vita tu dovresti essere solo felice di dire adesso per qualche mese sono immune non facciamo adesso la pagnina perché te sei preso il virus fantastica la nuova categoria del reducismo dal virus ci mancava soltanto questa ma repubblica la coglie in perfetto perfettamente ultima notizia della giornata è nato il nuovo presidente della confindustria si chiama bonomi ha vinto con un grandissimo distacco sulla concorrente licia mattioli e lì c'è la regola del parvenu la regola del parvenu è molto semplice della confindustria che vale sia per persone ricche ex ricche e non ricche sia per persone dotate di industria senza industria e media industria sapete qual è la regola del parvenu è semplicissima quando tu diventi presidente della confindustria ti danno la carta di credito ti danno l'aereo privato perché ovviamente gira per l'aereo privato ti danno un ruolo ti danno la televisione ti danno i vestiti perché ti devi vestire decentemente e poi soprattutto fra quattro anni ti danno un incarico pubblico cioè ti danno la possibilità di svoltare la marcegaglia diventata presidente dell'ENI cioè tutti quelli che non avevano un'azienda come non aveva la marcegaglia perché se no c'era il fratello il grande marcegaglia era steno non certo è ma marcegaglia che è la politica della famiglia un tempo si diceva metti in confindustria il figlio diciamo che in azienda è meglio tirarlo via adesso invece la presenza della confindustria è affidata a persone che l'azienda non ce l'hanno ed è una cosa che mi ha spiegato un imprenditore del nord che ha votato Bonomi e sapete qual è il concetto? Il concetto è noi imprenditori non ce la sentiamo di fare un mazzo così al governo ma andiamo avanti un altro che lo fa per noi Bonomi su questo non ci ha visto lungo da presidente della Sonombarda come dice Zacche per la prima volta diventi presidente della confindustria con il criterio del Parveru e quindi adesso sarà durissimo col governo lo sarà per i prossimi sei mesi e a me va bene straordinari le cose che dice lui vedrete il fine mandato di Bonomi comunque vada sarà per lui un successo anche perché non avendo un'azienda dovrà trovare un lavoro da fare nei prossimi anni più finanziere che industriale posto che c'è un 2% mi sembra alla fine di una grandissima catena di controllo che porta un'azienda di commercializzazione di prodotti biomedicali insomma abbiamo messo a capo della confindustria un uomo che non c'è un'industria messo dagli industriali del nord che pensano di utilizzarlo per fare da cane da guardia nei confronti della politica che oggi mi sembra imbarazzante ci riuscirà Bonomi? staremo a vedere ma la regola del Parvenu è vincente vedrete che quando sarà alla fine del suo mandato un posticello di lavoro pubblico lo troverà che è anche il prezzo che fanno sempre gli industriali del nord poi alla fine qualcuno paga anche per loro questi errori che commettono non in questo caso che sarà un grandissimo presidente della confindustria io su questo direi che possiamo concludere in bocca al lupo a tutti quanti voi ti invito ad aprire il sito della Cassa Forense sono bloccati alcuni per i soliti bravo per la profonda stampa italiana perfetto toc toc ci vediamo domani guardatevi sul mio Instagram no scusatemi non ve l'ho detto è fondamentale ho messo sulla mia pagina Instagram peraltro ragazzi non è possibile che ho 500.000 persone che mi seguono su Facebook e nessuno su Instagram qua ci sono quelli di Instagram guardatevi il remix che mi ha fatto uno sconosciuto che lo trovo straordinario un remix sulla mia pagina di Instagram che è da pisciarsi dalle risate ciao